Tommaso Piroli, primo gol in prima squadra, un gol che valso un punto, insomma eravate in dieci, però è un pareggio che serve a poco. Sì, non è un pareggio che ci serveva, comunque siamo in tre punti, però dai, speriamo di rifarci più avanti e magari qualche soddisfazione. Cos'è che non funziona quest'anno nella Pontebana? Tu sei giovane, ma insomma hai il tuo tuo anno. Mi sento il più giovane, però manca qualcosina, l'anno scorso eravamo comunque con dei problemi, però è arrivato al quarto posto, quasi terzo, però manca qualcosa. Adesso col gruppo speriamo di sistemare e tornare in Caragiata. Anche tante assenze, no? Anche oggi. Anche oggi tanta assenza, mancavano tanti nomi titolari, comunque si è visto, comunque mancavano i nomi importanti nel gruppo. Per quanto riguarda la tua prova personale, insomma un bel gol, un fuga in contropiede e poi botta al segno. Sì, sono contento, tanto che sudo, ci provo, non arrivava, finalmente quel giorno è arrivato e sono contentissimo. A chi dedichi questo primo gol della tua carriera? Questo gol lo dedico alla società, che ha sempre creduto in me, mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre aiutato, quindi va alla società, che mi ha sempre aiutato in tutto. Adesso insomma c'è questa salvezza da conquistare, sei fiducioso? Sì, credo che possiamo salvarci, dobbiamo metterci sotto e dobbiamo puntare a questa grande salvezza che deve arrivare.